Fanno migliaia di chilometri e tornano nel luogo dove sono nate, dove sono riprodotte l'anno precedente, solo questo sarebbe da apprezzare, cioè senza navigatore, senza tomtom, riescono a fare questa cosa, è una cosa strabiliante. Hanno volato sin dall'Africa per far ritorno dove sono nate ad Arezzo, ma qui hanno trovato una brutta sorpresa, porte e finestre sbarrate, il perché sporcano troppo. A denunciare il caso sono stati i referenti aretini delle associazioni Lipu, WWF e Dempa e riguarda il capannone di Sei Toscana alla cella alle porte di Arezzo, dove da 30 anni le rondine hanno formato una colonia riproduttiva. Quest'anno l'azienda ha deciso di chiudere tutte le finestre per impedire l'accesso di questi animali. A loro dire perché sporcano l'interno di questo capannone, in realtà secondo noi si possono adottare degli accorgimenti, delle coperture per evitare questo, le rondine sono importanti perché mangiano insetti, quindi sono animali molto utili all'agricoltura. Per Sei Toscana si tratta di un provvedimento di carattere igienico-sanitario a seguito delle ispezioni della Polizia Provinciale. L'azienda infatti specifica che il capannone da tempo è stato adibito a magazzino per le attrezzature utilizzate nel servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale e la presenza dei volatili ha causato continui episodi di imbrattamento. Sei Toscana sottolinea comunque che nel corso dei sopralluoghi da parte della Polizia Provinciale è stata confermata l'assenza di rondini o covinatto all'interno dei locali e che non sono stati comunque rimossi i vecchi nidi già presenti.